signori buongiorno e buona pasqua e bentornati sul canale del master car e io sono il master car e il vostro ospite su questo canale pasqua pasquetta questi sono i giorni in cui tradizionalmente ci si ritrova con gli amici per uscire tutti assieme fare grigliate e sono sicuro e molti di voi avranno anche organizzato qualche raduno speciale i giocatori di ruolo dato che quest'anno vi ho già rovinato le feste di natale con il video sulla sanco spallasi sempre qui nella serie dedicata ai giocatori non vedo perché non debba anche rovinarvi la vostra grigliata di pasquetta andando a parlare di problemi relazionali all'interno del gruppo spesso infatti quando parliamo di gioco di ruolo ne parliamo come se fosse di qualcosa di totalmente isolato dal resto della realtà ma in realtà un gruppo di giocatori di ruolo al dia del fatto che giocano di ruolo non sono affatto differenti da nessun altro gruppo di persone che stiano svolgendo una qualunque altra attività collaborativa ed è quindi soggetto alle stesse dinamiche agli stessi problemi sotto il video della sanco spallasi pb aveva proprio fatto notare questo in un commento avevo detto che sì effettivamente sarebbe stato qualcosa di cui bisognava parlare quindi oggi che è la giornata dedicata ai ritrovi tra amici andiamo a parlare proprio di quello uno dei paradossi che governano le relazioni sociali questa settimana parliamo del paradosso di abilene abilene non ci sarei mai arrivato questo è uno di quei concetti che in realtà non sono legati di per sé al gioco di ruolo quindi è probabile che molti di voi non ne abbiano mai sentito parlare a meno che nella loro vita non facciano il quadro dirigente d'azienda o altri ruoli simili e quindi probabilmente qualcuno gli ha fatto un noiosissimo corso su queste cose comprendo il vostro dolore quindi cos'è il paradosso di abilene dette in parole molto semplici è quella situazione in cui un gruppo di persone deve prendere una decisione ma per via di una mancanza di comunicazione iniziale la decisione che viene presa è insoddisfacente o letteralmente dannosa per ogni singolo membro del gruppo vediamo di fare un esempio che ci condurrà lungo tutto questo video per rendere le cose più chiare un master ha dichiarato che terrà una serie di sessioni una campagna una quest quello che è incentrata sull'intrigo politico varie png varie fazioni ne stiamo parlando in questo periodo nelle altre serie procede con la sua campagna ma dopo qualche sessione nota che i suoi giocatori sembrano particolarmente annoiati di quello che sta succedendo in quest sembrano svogliati non riescono a seguire palesemente si dimenticano pezzi della trama il master ci ragiona un attimo e decide che probabilmente per i giocatori la campagna è un po noiosa e quindi decide di ravvivarla inserendo più scene d'azione avvisa quindi i personaggi che nelle prossime sessioni ci saranno più combattimenti inseguimenti più action e di preparare i loro personaggi di conseguenza i giocatori sembrano entusiasti all'idea il primo dice che questa è un'ottima decisione perché ravviverà le serate secondo dice che sì sì ma tanto più cose si fanno più è divertente il terzo dice che a lui è contento perché gli sono sempre piaciute le cose d'azione il master quindi comincia a inserire combattimenti inseguimenti scene rocambolesche in cui i personaggi sono in pericolo di vita e ogni volta che gli sembra che il party sta di nuovo tornando ad annoiarsi alza sempre più la sticella dell'azione finché la quest che era iniziata come un intrigo politico fondamentalmente diventa un film di bruce willis la cosa va avanti per ancora qualche mese alla fine la campagna finisce il master chiede come sia andata ai suoi giocatori e tutti sono insoddisfatti tutti si accusano uno con l'altro accusano il master di aver rovinato la storia che invece gli piaceva e alla fine sembra che questa cosa delle scene d'azione non sia piaciuta a nessuno e immagino che adesso ci sia qualcuno tra i master che sta pensando che questo sia un classico esempio del fatto che i giocatori non sanno quello che vogliono possibile ma in realtà è più probabile che si tratti di un errore di comunicazione fondamentale sia tra il master e i giocatori che e soprattutto tra i giocatori tra di loro se andiamo ad analizzare non tanto quello che sembra essere successo ma quello che effettivamente è successo ci accorgiamo per prima cosa che sì c'è stato un primo errore da parte del master invece di chiedere ai giocatori che cosa non stesse andando in quest perché fossero annoiati ha dato per scontato di aver già capito da solo qual era il problema e ha semplicemente proposto quella che per lui sembrava essere la soluzione migliore a quel problema ne abbiamo già parlato in un altro video mi limiterò a linkarvelo qui per non stare a ripetere però possiamo dire che in casi del genere il master dovrebbe sempre discutere sui giocatori sia su quale sia effettivamente il problema sia su quale debba essere la risoluzione di quel problema dare per scontato di aver capito tutto di sapere anche come risolverlo molto probabilmente non è stata la manovra più saggia da parte del master senza volere essere cattivi ma se il master fosse stato così bravo da essere non solo in grado di capire immediatamente dove stesse il problema ma anche di capire quale fosse la giusta soluzione al problema allora probabilmente sarebbe stato anche abbastanza bravo da fare in modo che quel problema non si verificasse quindi l'evidenza dei fatti dimostra che quando al tavolo c'è un problema probabilmente qualcosa che il master non sta vedendo questo è un adagio che dovete tenere a mente però allora perché questo video è nella serie per i giocatori e non è un video dell'arte del masteraggio perché in realtà c'è un altro errore più grosso che è stato commesso dai giocatori perché non hanno mai discusso tra di loro non tanto su quello che stava succedendo nella quest ma su quello che stava effettivamente succedendo al vero e proprio tavolo da gioco tra di loro ritorniamo indietro nel tempo prima ancora il nostro esempio quando il master in sessione 0 ha proposto che avrebbe voluto fare una quest politica probabilmente i giocatori gli hanno detto di sì ma non si sono mai fermati a discutere con lui o tra di loro su che cosa significasse esattamente voglio mettere al tavolo una quest politica il primo giocatore era effettivamente un grande appassionato di queste politiche quindi si era veramente entusiasta di fare una quest del genere il problema in realtà è che lui è veramente un grande appassionato di intrighi e quello che il master aveva proposto non era troppo noioso per lui perché c'era troppa politica era noioso perché ce n'era troppa poca lui aveva voluto avere ancora più png un intrigo ancora più complesso ma invece di dirlo esplicitamente in sessione 0 o durante la quest ha preferito stare zitto perché non voleva farsi la figura di quello che vuole saperne più del master vuole imporsi sugli altri giocatori il secondo giocatore magari aveva proprio frainteso quello di cui si stesse parlando quando il master ha detto quest politica lui non ha pensato a un intrigo a un mistero ma ha pensato qualcosa di più simile a un sandbox nel senso che ah sì ci saranno diverse fazioni e noi avremmo libertà di scelta su quali missioni fare o su chi allearci avrebbe dovuto chiedere più informazioni che gli venisse spiegato meglio che cosa volevano fare gli altri tutti gli altri però sembravano così contenti e lui non voleva fare la figura di quello che fa il bastian contrario il terzo giocatore è realmente un appassionato di action e soprattutto di incontri di combattimento quindi in realtà lui fare una quest politica non avrebbe interessato però ha visto che il master l'aveva proposta gli altri due avevano accettato non voleva essere lui quello a dire no e deludere le aspettative tutti gli altri quindi ha detto ma sì una volta ogni tanto per cambiare non mi farà male e ha detto di sì in modo da rendere tutti felici nella pratica alla fine tutti e tre hanno accettato di giocare a questa quest anche se in realtà loro non volevano farlo volevano fare qualcosa di diverso solo perché non avendo parlato tra di loro hanno dato per scontato che le aspettative degli altri fossero esattamente quelle che sono immaginati loro e hanno detto di sì non tanto perché era nel loro interesse farlo ma perché non volevano deludere i loro compagni di gioco in pratica hanno detto di sì perché pensavano fosse quello che fosse negli interessi degli altri questo errore iniziale di comunicazione tra i giocatori ha poi portato al fatto che anche durante la quest per quanto ognuno di loro in realtà non si stesse particolarmente divertendo non voleva fermare la quest e parlarne di nuovo perché aveva fatto brutta figura con gli altri e non voleva essere quello che rovinava il gioco al resto del gruppo che invece per quello che si aspettava lui probabilmente se la stava godendo tantissimo e questo si applica anche alla proposta poi fatta dal master quando il master ha detto che voleva aggiungere più scene d'azione invece di dire no guarda questo non risolverebbe niente tutti e tre hanno dato per scontato che aggiungere più scene d'azione fosse quello che sarebbe piaciuto fare al master perché magari lui si stava annoiando perché magari le scene di dialogo sono molto più lunghe e complesse da preparare magari pensavano che voleva mettere roba più d'azione perché aveva problemi con la gestione della preparazione della campagna e voleva qualcosa di più semplice per non stressarsi troppo nel prepararla non è importante quale sia il motivo il master ha detto che voleva fare una roba e i giocatori invece di chiedere perché hanno detto tutti sì sì a noi va bene perché pensavano che questo fosse quello che il master voleva sentirsi dire nessuno dei tre voleva essere quello che contraddiva il master perché poi avrebbe rischiato di far sentire desautorato il master o quello che è e dopo che il primo ha detto per me va bene tutti gli altri hanno anche pensato che non volevano essere quello che rovinava di nuovo il divertimento agli altri dato che comunque quello lì aveva già detto che gli piaceva quindi già due persone volevano fare sta cosa perché devo essere io quello che lo impedisce di nuovo tutti i membri del party hanno votato favorevolmente per qualcosa non perché era quello che loro volevano fare ma perché era quello che ritenevano fosse quello che gli altri volessero fare come abbiamo detto all'inizio in sostanza il paradosso di ebelin è proprio questo un gruppo di persone prende una decisione ma ogni membro del gruppo non prende una decisione in base al proprio interesse o a quello che è il reale interesse del gruppo ma in base a quello che pensa essere l'interesse degli altri membri del gruppo ma senza che questo interesse venga realmente esplicitato in pratica si ha il paradosso di ebelin quando i membri di un gruppo prendono decisioni basate sulle aspettative che hanno per le decisioni degli altri che poi è il motivo per cui avete passato la pasquetta a guardare l'album di foto del figlio piccolo dell'amica di vostra moglie che lei in realtà detesta ma continua a frequentare perché pensa che piaccia a voi e voi continuate a frequentare perché pensate piaccia a lei in realtà potevate andare a ubriacarvi insieme e divertirvi e ora siete condannati a passare le pasquette guardando album di diapositive diciamo che avendo quindi dimostrato come la mancanza di comunicazione renda non solo più difficile divertirsi tutti insieme al tavolo ma renda anche più triste la vostra vita posso dire che il mio lavoro per questa settimana è concluso quindi il video lo possiamo terminare qui ora in chiusura sul gruppo telegram sarà parlato di un altro speciale per pasqua ma in questo periodo proprio non ho avuto tempo mi dispiace ho dovuto fare qualcosa di più classico come questo video magari per la pasqua dell'anno prossimo magari più avanti se riuscirò a liberarmi un po di più ma non potevo seguire un progetto speciale scusatemi comunque per questo video invece è tutto adesso sta a voi ditemi qui sotto nei commenti se vi è mai capitato di avere problemi proprio per via il paradosso di evelyn o se avete rovinato le vostre ferie per via di questo paradosso anche se questo è un discorso a parte come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo chiuso a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate il link al server di discord e al gruppo i telegram dove metto io le notifiche dei video manualmente e trovate il resto della community del master ca e io sono il master ca e noi ci vediamo al prossimo video